L'ultimo finale di Erna per quanto riguarda le finali P nella categoria Mane 17 anni e più andiamo a vedere all'ottomando c'è Fabian Nicogler, Tali from Astoright leading on the Mane Sandy Yersen O'Wara, on the track, Inter, Peter from Ungerio, Alessandro Lietz, Niccolò Pitropoli per l'Italia, Saluta Totina, Alessandro Lietz ovviamente con il 48 ore di Vignano e abbiamo Edward Orna, il numero 6, numero 6, one more time is Fabian Nicogler from Astoright Proverino on the Mane 17th of our final team.